Al punto più basso dell'emanazione o processione dall'uno si trova la materia, che è un semplice non essere e quindi non è un'ipostasi. Ricordiamo che ipostasi significa sostanza, natura, ciò che resta fermo dietro il fluire dei fenomeni che sono destinati a esaurirsi. Ricordiamo anche che per Plotino le tre ipostasi sono l'uno, l'intelletto e l'anima. La materia è quindi il limite estremo della discesa dall'uno. Ma a differenza di Platone, in Plotino la materia non è plasmata deliberatamente da un demiurgo, ma sottostà a una necessità cieca. Il mondo sensibile non è un'ipostasi perché non ha una sua vera consistenza, nel senso che ciò che viene percepito dai sensi, quindi ciò che percepiamo tutti noi ogni giorno, è soltanto apparenza. Di conseguenza per Plotino soltanto l'invisibile costituisce la vera realtà. La materia non è però un male assoluto, ma un male relativo, inteso come semplice mancanza, quindi privazione di essere, così come il buio è solo assenza di luce. Secondo Plotino, il male di ogni ente, compreso l'essere umano, è la diversità, il non essere tutti gli altri enti. Con parole di Plotino, aperte virgolette, nel mondo intelligibile ogni essere è tutti gli esseri, ma quaggiù ogni cosa non è tutte le cose. Nel nostro mondo, quindi, l'unità delle idee che coincidevano tutte nel medesimo intelletto risulta invece frantumata e ogni organismo appare distinto dagli altri. Secondo Plotino, gli enti di questo mondo sono bene in quanto sono a immagine dell'essere, ma sono anche male in quanto non sono tutti gli altri enti e non sono la vera realtà. Essendo qualcosa di inevitabile e necessario, secondo Plotino anche il male ha una sua ragion d'essere. è infatti per necessità che l'uno emana il nous, cioè l'intelletto, il nous a sua volta emana l'anima e l'anima emana il mondo sensibile. Di conseguenza, a coloro che vorrebbero eradicare il male dal mondo, Plotino risponde citando dal teeteto di Platone l'obiezione di Socrate, che sostiene che, aperte virgolette, ciò non può avvenire perché il male esiste necessariamente, essendo necessario un contrario al bene. Inoltre, Plotino attribuisce al male anche una funzione etica, in quanto vi vede una sorta di espiazione di una colpa originaria. Secondo Plotino, al fine di ricomporre l'identità delle idee, la soluzione per l'essere umano è la fuga dal mondo. Tematica di rilievo nel Medioevo, che sebbene fu dovuta in parte a guerre e situazioni storiche, trova nel pensiero di Plotino un contributo fondamentale nell'orientare molti posteri alla vita monastica. Fuggi il molteplice è infatti il motto di Plotino. Bene, parliamo adesso della provvidenza. Il male si comprende meglio alla luce della provvidenza, un concetto che in Plotino è molto importante. La provvidenza, secondo Plotino, è il segno che gli elementi di questo mondo si originino dall'alto e il necessario adeguarsi della realtà all'idea di cui è immagine. Il termine greco pronoia, con cui si traduce provvidenza, non va però inteso come un provvedere fattivamente, cioè con fatti concreti a qualcosa, quindi provvedere fattivamente a qualcosa con fatti concreti, in quanto l'intelletto o nous non si occupa affatto del mondo sensibile. Per Plotino la pronoia, quindi la provvidenza, è quindi soltanto precedenza o antecedenza dell'intelletto rispetto al sensibile. Da ciò deriva, quindi, che il mondo è sostanzialmente buono. Plotino non vuole spiegare il male, né vuole sminuirlo, come facevano gli stoici, secondo cui tutto avviene sempre secondo ragione. Egli rigetta anche il finalismo, a misura di essere umano, della Bibbia, anche se nella concezione biblica provvidenza non significa che tutto vada sempre per il meglio. La sua polemica è invece rivolta principalmente contro il meccanicismo, che attribuisce al caso la formazione dell'universo, teoria che per lui è assurda. Plotino afferma invece che il mondo deriva da un essere superiore che genera in maniera autonoma e naturale, cioè per nessuno scopo particolare, un essere simile a sé. Il male nel mondo è quindi dovuto unicamente all'inevitabile dispersione e affievolimento della luce e della bellezza originari, come un raggio di sole che si allontana via via nelle tenebre. Questa idea di provvidenza sarà poi ripresa nel Settecento da Gian Battista Vico. Bene, questo video termina qui, vi ringrazio sinceramente per l'attenzione, alla prossima!